Una foggia intima, liquida, quasi crepuscolare, è quella proposta da Riflessi, il corto scritto, girato e diretto da Jean-Pierre Clima, videomaker foggiano. Questa città ha dato vita a tante persone che sono di qualità, che riescono a trasmettere cose positive anche fuori dalla città, per cui è questo il punto di partenza, cominciamo a riprendere l'amore di questa città. Nelle immagini di Riflessi c'è il desiderio di proporre l'altra faccia possibile di una città martoriata dalle ferite e dalle critiche. Quello che mi ferisce è sentir parlare male della mia città e se questo mi ferisce ma può andare anche bene, se vi hai detto viene fatto da qualcuno estraneo va bene, ma è quando un mio fratello, un mio concittadino che parla male della mamma, no, questo non si può sopportare. Girato, scritto, diretto interamente da te, ma anche interpretato, quindi un videomaker che si fa anche protagonista attore. Sì, qualcuno magari con una certa irrealità mi dice, amici, one man show, nel senso che faccio un po' tutto io. Sì, è così, nasce una serata d'estate di qualche anno fa, sempre per l'ennesima situazione in cui venivo ferito da quello che veniva detto e scrivo questo pezzo, poi lo realizzo. Sì, tutto da me, faccio tutto. Riflessi e improgrammazione nei cinema foggiani, in testa al nuovo film di Pio e Amedeo, diretto da Nuziante. Non chiedere cosa il tuo paese può fare per te, ma chiedere cosa tu puoi fare per il tuo paese. Che sta a significare non chiedere cosa il paese, in questo caso la città, può fare per te, ma cosa tu puoi fare per la città. Grazie.